A poche ore dalla tragedia consumata se ieri mattina in un'azienda di prodotti ittici di Molfetta, attenzione rivolta alle indagini affilate alla procura di Trani, protesa ad accertare eventuali reati di omicidio colposo nei confronti del legale rappresentante dell'azienda di Dio, dove Nicola Rizzi, 50 anni, e suo figlio Vincenzo, di 28, sono morti in un tragico incidente nel tentativo di salvare Alessio Rizzi, 21 anni, figlio di Nicola e fratello di Vincenzo. Lo si apprende in ambienti vicini alle indagini che ipotizzano che il pozzo Cisterna, sul quale stavano lavorando i tre titolari della piccola azienda Ecologia Rizzi, non fosse a norma. Dal pozzo dove i tre sono precipitati, e solo il più giovane è stato estratto vivo, provengono miasmi letali e le vittime potrebbero non essere morte per annegamento. Nella cisterna interrata confluivano infatti i liquami della lavorazione dei prodotti ittici. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Trani, Carlo Maria Capristo, e dal PM di turno, Mirella Conticelli. Non resta ora che attendere l'esito dell'autopsia disposta oggi, chiamata ad accertare le cause del decesso di padre e figlio, chiedendo se siano morti per asfissia o se abbiano respirato o ingerito sostanze tossiche. I militari stanno anche cercando di accertare se la presenza di quella cisterna fosse normale, se i tre hanno rispettato le precauzioni previste dalla legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul posto non sono state trovate le mascherine che i tre avrebbero dovuto indossare, e che, non è però escluso, potrebbero essere cadute nella cisterna. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, il primo a cadere nella cisterna sarebbe stato il più giovane Alessio, quindi il padre si sarebbe calato nel tentativo di salvarlo, ma anche lui sarebbe stato colto da malore ed è stato soccorso da Vincenzo, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati estratti ormai privi di vita dai vigili del fuoco. Alessio invece è fuori pericolo, ma in prognosi riservata e sotto osservazione all'ospedale di Biceglie. Le sue condizioni non sono gravi, ma ricorda poco dell'accaduto. Ha un trauma cranico commutivo, con amnesia post-traumatica e una lesione in zona fronte temporale sinistra. Intanto continuano a susseguirsi i messaggi di cordoglio per quanto avvenuto, con mossa partecipazione a quella del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Capo dello Stato, di fronte a ripetersi di incidenti mortali in situazioni analoghe, con chiaro riferimento a quanto avvenuto sei anni fa nella vicina track center, in cui persero la vita il titolare dell'impresa e quattro operai, ha rinnovato l'appello a che vengano adottate in ogni circostanza e con il massimo scrupolo tutte le misure di sicurezza a tutela della vita dei lavoratori impegnati in tali rischiose operazioni di manutenzione. Ora si attende l'autopsia sui due corpi prima di procedere alle sequie. Nella giornata dei funerali, i sindaci di Molfette e Vitonto, Paola Natalicchio e Michele Abaticchio, hanno disposto il lutto cittadino.